ragazzi oggi vi dimostrerò come trasformare cosce e sovraccosce di pollo in un piatto favoloso ingredienti yogurt bianco cardamomo cumino limone aglio e questa è una speciale polvere che ho preso nell'ultimo viaggio che ho fatto da budapi iniziamo a preparare la marinatura che poi lasceremo il pollo tutta la notte quindi yogurt bianco cardamomo un po di cumino succo di limone e naturalmente questa spezia voi potete metterci un po di curcuma o quello che avete aggiungiamo l'aglio utilizziamo questo spremi aglio bellissimo andiamo a girare la marinata e poi andremo a inserire i pezzi di coscia e sovraccoscia che abbiamo preventivamente intaccato per far penetrare bene la marinata andiamo a inserire i pezzi di pollo e facciamo penetrare la salsa con le mani così questo è il risultato finale adesso lo andiamo a chiudere e mettere in frigo per 24 ore allora il pollo è stato 24 ore in frigo con la marinata adesso disponiamo i pezzi di pollo sopra una teglia con la carta forno guardate che bello ragazzi c'è un profumino di tutti questi aromi adesso lo mettiamo almeno un'ora e mezza al forno preriscaldato al massimo passate circa un'ora e mezza andiamo a sfornare ragazzi c'è un profumo che non vi potete immaginare sempre di stare in una locanda indiana eccolo qua guardate che bello profumatissimo adesso lo andiamo a mangiare ragazzi andiamo a assaggiare il pollo è venuto bello abbrustolito profumatissimo eccezionale provatelo e poi mi dite alla prossima